Arriva direttamente da una squadra del massimo campionato Alessandro Mercati nella scorsa stagione è stato tra i più apprezzati nel campionato Primavera dove è stato protagonista con la maglia del Sassuolo Mi ha fatto molto piacere l'interessamento del Montevarchi Arrivare dal Sassuolo è una bella responsabilità per te Sì, è una bella responsabilità però diciamo che non la sento vengo qua per dimostrare quello che sono, per cercare di fare del mio meglio io so che sono in realtà completamente diverse e spero di trasportare quello che ho imparato a Sassuolo qua a Montevarchi Magnanelli ha giocato, hai di queste parti, hai chiesto informazioni? No, non ho chiesto informazioni però diciamo ci ho passato un po' di allenamenti insieme Magnanelli è una figura importantissima per il Sassuolo è un esempio grandissimo, un grandissima persona, un grandissimo uomo oltre che un grandissimo calciatore quindi mi ha sempre dato dei buoni consigli